Stefano Sabelli, un assist, una prestazione estremamente positiva, come giudichi la tua partita e la partita di tutta la squadra? Penso che abbiamo fatto una grande partita, io parlo sempre per la squadra perché alla fine è la squadra che ti permette di saltare il singolo, quindi penso che oggi non era facile, abbiamo fatto tutte le cose nel modo migliore. Avete preso in giro fedele per il suo gol? No, purtroppo è stato sfortunato la settimana scorsa e è stata ripagata la sua buona fede. Una vittoria che porta continuità al pareggio con lo Spezia e adesso si apre un altro ciclo con un inizio di una partita importante? Penso che in Serie B alla fine la continuità è la cosa più importante, diamo continuità e adesso andiamo a Verona a fare il risultato.